Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi sul tema della preghiera. La preghiera è il respiro della fede e la sua espressione più propria, come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Pensiamo alla storia di Bartimeo, un personaggio del Vangelo, e vi confesso, per me è il più simpatico di tutti. Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore dell'uomo c'è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce dentro. Una voce che esce spontanea, senza che nessuno la comandi. Una voce che si interroga sul senso del nostro cammino qua giù, soprattutto quando ci troviamo nel buio. «Gesù, abbi pietà di me! Gesù, abbi pietà di me!» Bella preghiera questa! «Gesù, abbi pietà di me!» «Gesù, abbi pietà di me!»